Presentiamo oggi le ali dell'uomo, la nuova stagione del teatro sociale e il capitolo secondo. L'anno scorso abbiamo parlato delle ombre dell'uomo, quindi un po' le tematiche difficili che pervadono la nostra vita terrena. Quest'anno parliamo delle ali, abbiamo anche timbrato tutte le persone con un'ala, così si vede, per cercare di dare delle possibili risposte, risposte che si danno con l'amore, la scienza, la natura e anche la fede e la religione. Un programma molto articolato che parla di opera, di musical, di prosa, di sinfonica, molto ricco. Adesso sono cavoli tuoi! Buongiorno, come sta per l'angolo? A prendere il bus, ma qua c'è il teatro sociale di Como e non ci entrate dal momento che adesso, se in mezzo, c'è la presentazione della stagione, della prossima stagione! A prendere il bus, ma qua c'è il bus, ma qua c'è il bus. A prendere il bus, ma qua c'è il bus, ma qua c'è il bus. A prendere il bus, ma qua c'è il bus. A prendere il bus, ma qua c'è il bus. Questo è il bellissimo video di uno spettacolo canadese che si chiama Parca, in cui volevo parlare con Bianca Passera. Bianca Passera è diventata nostra consigliere proprio negli ultimi giorni, abbiamo fatto una conferenza stampa due giorni fa, e con lei stiamo lavorando già da un po', da un anno o meno, un po' con l'idea di cercare anche di portare a Como, che abbiamo già fatto negli altri anni, ma ancora di più e sopra di più, degli eventi internazionali, come questo, che sarà proprio un evento esterno. Sì, è un po' che parlo con Barbara di teatro, però ancora siamo sovintrati adesso un po' nel vivo. L'idea di aprire questo teatro che si sta, che ormai è una realtà straordinaria a Como, che si è aperto alla città, che offre questi scambi con opera domani, all'estero, valeva la pena a questo punto anche aprirsi a ospitare qualche spettacolo internazionale. Questo dell'H è una compagnia canadese, è un insieme, è una scienografia meravigliosa, un insieme di arte, di musica, di fisica, di arte circense.